Ciao a tutti, io sono Giada e sono un'insegnante di danza e di gioco danza. Sono qui per passare un po' di tempo con voi. In questi giorni infatti insieme faremo delle lezioni che uniranno dei semplici esercizi della danza a degli esercizi utili al nostro benessere psicofisico. Se siete pronti, iniziamo la lezione. Iniziamo questo nostro primo esercizio partendo dalla testa che fa un giro e dall'altra parte. Ora al giro della testa si uniscono anche le spalle. Dall'altra parte, mi fermo al centro avanti e esercizio il torno. Testa di nuovo dalla parte opposta. Cambio, unisco le spalle e cambio. Mi fermo al centro e srotto da una vertebra avanti. Le spalle dietro fanno un bel giro. E due. Avanti. Per due. E vanno su e scendo. Su e scendo. Ancora due. Su. Scendo. Su. Scendo. Allunga bene. E torno il braccio in alto. Fanno un giro. Prendo il gomito e tiro. La spalla del braccio che va dalla parte opposta. Tira verso fuori. E apro. Dall'altra parte. Il bacino non si muove. E torno. Vai un bel giro. E un altro giro. Prendo il gomito e tiro. E apro. Mentre le braccia scendono, le camiglie iniziano ad attivarsi. Vado in mezzo a punta. Vai sulle braccia. E scendo. Di nuovo su. E scendo. Le braccia si fermano avanti e vado in contrazione. La testa scende. la schiena si curva. E torno. Ancora. Curva. E torno. Ancora. Da qui salgo con le braccia sopra la mia testa. Salgo. E apro. E ripeto. Ancora. Avanti. Salgo. e apro. Cambio. 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 Piedi paralleli. Prendo un bel respiro. E salgo. E prendo. Giù. E tiro. E scendo. Gino. Ginocchia parallele. Mi raccomando. E scendo. Giù. E stop. Mani dietro la nuca mi fanno scendere. Scendo. Se riesco appoggio le mani a terra. Altrimenti arrivo fin dove posso. mani sopra il piede. Prendono la gamba. Stanno sopra il piede. Sono come riuscite. spiego. Piego la gamba dove ho messo le mani. Piego. E stendo. E piego l'altra gamba. Tiro. e torno. Cambio gamba. Piego la gamba delle mani. Stendo. Piego l'altra gamba. e torno al centro. Magno avanti. A me. Piego le gambe. e srotolo una vertebra alla volta. Le braccia salgono. Salgono sopra. E allungano avanti. Mi raccomando. schiena piatta. La testa è dentro alle nostre braccia. Non sta ne troppo giù. Ne troppo su. Rimane all'interno. E tiro. E da qua. Le braccia vanno dietro e le gambe si piedano. Sempre con la schiena mi raccomando bene dritta. E torno avanti. E di nuovo. Dietro. E torno avanti. Ancora per due. dietro. E torno avanti. L'ultimo. Dietro. E torno avanti. Scendo. Chiudo i piedi. piego le gambe. Piego le gambe. E srotolo una vertebra alla volta. Per il prossimo esercizio io mi giro di lato. Così riuscite bene a vedere che cosa fanno i piedi. Che cosa fa il gusto. Da qui. Mani dietro la luca. I piedi sono leggermente divaricati ma paralleli. Scendo. Scendo una vertebra alla volta. E sto. Le mie mani vanno avanti. I talloni rimangono bene appoggiati al pavimento e non si alzano. E spingo le spalle verso il pavimento con la testa che entra all'interno. alzo i talloni e ritorno con i talloni ben appoggiati a terra. E ripeto. Alzo i talloni e torno con i talloni ben appoggiati a terra. Le spalle spingono verso il pavimento. Ancora per due. Su. E scendo. e l'ultimo. Sale. E scendo. Da qui. Piego le ginocchia. E scendo senza toccarle a terra. E ritorno con i talloni appoggiati bene a terra. E ripeto. Scendo. E stendo. E ancora. Scendo. e rimango. Appoggio le ginocchia a terra. Srotolo una vertebra alla volta. Appoggio le mani dietro. E salgo con il bacino. E salgo. Fin dove riesco a salire. La testa va dietro. E ritorno. Allungo avanti. Sedere bene appoggiato sui talloni. e salgo con i talloni. E srotolo una vertebra alla volta. E torno. Appoggio a terra il sedere. gambe. Piegate. Piegate. Piegati uniti. Il sedere non si alza mai da terra. Con le braccia vado a lato. Spalle basse mi raffumando. Scendo avanti. torno dall'altra parte. Sempre mi raccomando senza alzare il sedere. E ritorno. E ripeto. Vai. Tiro. e scendo avanti. E cambio. E torno. da qui. Appoggio le mani avanti. I miei piedi escono là. E scendo. Scendo fin dove riesco. La mia schiena rimane sempre dritta. Non si curvano. Sono le spalle che scendono. Mi giro di fianco. così riuscite a vedere bene le spalle. Non è questo. Ma la schiena è dritta. Ok? E da lì scendo fin dove riesco. Sempre mantenendo la schiena dritta. È l'ombelico che si avvicina alle cosce. Non sono mai le nostre spalle. Quindi io continuo a tirare. Se riesco piego le braccia così magari scendo un po' di più. e srotolo una vertebra alla volta da qua. piego le gambe passo oltre appoggio dietro la mezza punta stendo vado dietro con una gamba scendo allungo e tiro bene dietro il tallone della gamba dietro vuole proprio uscire vuole andare verso il muro e tengo se riesco appoggio le mani sul ginocchio altrimenti va benissimo anche rimanere là e torno rimanendo e chiudo cambio gamba scendo se riesco vado su con le braccia altrimenti va benissimo rimanere qua spalle basse e le schiene benedette e ritorno in appoggio vado avanti piego tutte e due le gambe e stendo piego ancora tutte e due le gambe e di nuovo stendo ricordatevi che è l'ombelico che arriva verso le cosce piego l'ultima volta e srotolo una vertebra alla volta ed ora qualche esercizio per i nostri addominali scendo appoggio bene la schiena a terra mani sotto a sedere flex punta scendo flex punta scendo ancora flex punta scendo mi raccomando la schiena è sempre ben appoggiata a terra non fa la curva e punta flex e punta e flex e punta si l'ultima e l'ultima da qua flex stendo le gambe scendo con i talloni a terra tiro la punta senza appoggiare i talloni a terra torna flex di nuovo scendo punta e ritorna e scendo una punta ritorna e flex scendo scendo punta flex l'ultimo scendo e punta ritorna e su scendo appoggio e vado con dei semplici crunch vai ne facciamo dieci e uno guardo il soffitto e chiudo le gambe a dentro appoggio ruota e torna ecco che siamo pronti per imparare insieme una nuova coreografia iniziamo con i piedi chiusi semplice i piedi fanno apro chiudo apro chiudo apro apro semplicissimo ancora sette otto uno due tre quattro cinque sei apro dall'altra parte sette otto uniamo anche le braccia sette otto uno schiacco due tre quattro apro cinque sei apro sette otto ancora cinque sei sette otto uno uno due tre quattro apro cinque sei apro sette otto ancora leggermente più veloce cinque sei sette otto uno due tre e quattro apro cinque sei apro sette otto un'altra volta poi andiamo avanti cinque sei sette otto uno due tre quattro apro cinque sei apro sette otto bravissimi da qua le braccia scendono giù e la gamba va avanti quindi sette otto uno torno due tre torno quattro la gamba va in avanti fa questo va semplicemente in avanti e ne facciamo due avanti uno due e due dietro uno due ok? ed è uno due tre quattro dietro cinque sei sette otto benissimo con le braccia sarà uno la gamba va avanti le braccia scendono torno due cambio tre cambio le braccia salgono quattro quando la gamba va dietro le braccia scendono e vanno verso verso la gamba ritornano fanno un giro e vanno dall'altra parte seguendo l'altra gamba ancora questa cosa 7 8 1 2 3 4 dietro 5 giro 6 dietro 7 torno 8 ancora 7 8 e 1 avanti 2 e 3 dietro 5 5 5 6 7 8 8 uniamo con l'8 prima vai 5 6 7 8 apro 1 2 3 4 manco 5 6 apro 7 8 avanti 1 1 2 3 dietro 5 in giro 6 e 7 torno 8 ancora un'altra volta vai 5 6 7 8 1 2 3 e 4 apro 5 6 apro 7 8 avanti 1 2 3 dietro 5 6 7 8 benissimo andiamo avanti slide apro e chiudo anche dall'altra parte apro e chiudo ci vedono aiuto le braccia da qua 7 8 stop apro 1 chiudo 2 le braccia salgono su e vanno a lato stessa cosa faranno anche dall'altra parte vanno su e vanno a lato quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 1 2 3 4 5 6 7 ancora l'ultimo 1 2 su 3 apro 4 5 6 su 3 e 8 perfetto tutto da capo 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 dietro 5 6 7 8 slide 1 2 su 3 4 5 6 7 7 8 8 perfetto l'ultimo 8 costruiamo l'ultimo 8 insieme vai da qua 7 8 le spalle si muovono di conseguenza alle nostre gambe che fanno una semplice marcia 1 2 3 4 un po' più veloce 5 6 7 8 ed è finito ancora questa marcia 7 8 1 2 3 4 ancora 6 7 8 l'ultima 6 7 8 e 1 2 3 veloce 5 6 7 8 perfetto lo facciamo ancora un po' di volte insieme dall'inizio senza musica poi lo faremo con la musica 5 6 7 8 1 2 3 4 apro 5 6 apro 7 8 avanti 1 2 3 dietro 5 6 7 8 e 1 2 su 3 4 5 6 7 8 marcia 1 2 3 4 veloce 6 7 8 bravissimi ancora un'altra volta vai 5 6 7 apro 1 2 3 4 5 6 7 8 avanti 2 3 dietro 5 6 7 8 1 2 su 3 4 5 6 7 8 lento 1 2 3 veloce 5 6 7 8 bravi su siamo pronti per farlo con la musica siamo pronti? un po' di volte insieme con la musica 5 6 6 6 7 8 8 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 28 28 29 30 30 30 30 31 31 24 30 32 31 32 32 32 33 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!